Tutta la loro industria si basa sullo speculare a rialzo e a ribasso, allo stesso tempo. Sia impiegando il rischio per il suo vantaggio asimmetrico, che limitando il rischio come copertura contro gli inevitabili ribassi. Beh, è ora che la smettiamo di ammirarli e che cominciamo a copiarli. Grazie a tutti.